tanti auguri tanti auguri amici della pagina los 40 italia network e tanti auguri anche a vincenzo che cura questa pagina e che ogni giorno pubblica dei contenuti meravigliosi che fanno veramente ritornare fuori grandi emozioni grazie a tutti per il like continuate a seguirci perché nel 2015 succederanno su questa pagina un sacco di cose meravigliose ma abbiamo bisogno anche del vostro contributo quindi tirate fuori tutto quello che avete nei cassetti che vi ricorda quegli anni che ricordano los 40 che ricordano italia network dal biglietto della discoteca al manifesto oppure semplicemente anche le compilation o tutti i ricordi di quegli anni che noi vogliamo condividere con voi su questa pagina grazie a tutti tanti auguri da andrea fellizzari more christmas for everybody italia network